Sindaco, allora per la nuova giunta è iniziato il conto alla rovescia, quando si avrà l'ufficialità? Il conto alla rovescia è già iniziato da diversi giorni, manca un tassello fondamentalmente e avevo più o meno promesso che per la metà di questa settimana avremmo potuto fare i numi è probabile che slitterà di qualche giorno ma non andrà oltre la fine di questa settimana sempre nel solco delle competenze ovviamente e tutte le componenti, tutte le liste hanno contribuito ognuno per la sua parte ma con grande entusiasmo a questa bellissima vittoria quindi è giusto che siano tutti riconosciuti Ho sempre detto che la mia priorità era quella di dedicarmi al decoro della città anche se tutto quello che io potrei dirle in questo momento deve essere anticipato da una puntuale verifica delle risorse finanziarie del Comune Ritengo, ma non lo ritengo solo io perché in questi giorni ne abbiamo parlato con tutti gli attori di quella che sarà la squadra di governo, dal vice sindaco agli assessori in pectore eccetera della necessità assoluta di sapere veramente quanto possiamo avere da spendere quali sono le condizioni delle finanze del Comune perché come ho sempre detto come un buon padre di famiglia non può promettere giocattoli costose ai propri figli se il suo portafoglio è vuoto Avete trovato soldi in cassa? Domani si fa la verifica di cassa domani mercoledì faremo la rituale ricognizione della verifica di cassa e vedremo che cosa c'è